Direi davvero che è fuori tempo massimo perché la conferenza stampa di ieri dei sindaci del Valdarno insieme all'assessore regionale ormai ha siglato la parola fine rispetto alla possibilità di un distretto unico del Valdarno, Aretino e Fiorentino. Detto questo credo che questa sera sia l'occasione di fare il punto della sanità nel Valdarno e di rafforzare quanto più possibile la coesione dei cittadini e delle istituzioni intorno al presso ospedaliero della Gruccia perché credo che questo sia di fondamentale importanza per salvaguardare non solamente il presso ospedaliero ma tutta una serie di servizi nel territorio. Credo che il Valdarno abbia perso non un'occasione ma un'occasione storica di cominciare un percorso inverso a quello fatto negli ultimi 30 anni invece di dividersi, di unirsi e le scuse portate per giustificare questo credo non siano insufficienti, anzi siano ridicole e offensive nei confronti dei cittadini valdarnesi perché vedete non è un problema solo di distretto unico sanitario che ovviamente ha le sue conseguenze in termini anche di ricadute sui servizi e soprattutto sulla sopravvivenza di due presidi ospedalieri, quello della Gruccia ovviamente ci interessa più da vicino ma ovviamente anche per il presidio del Serristori ma il fatto di aver mancato l'occasione di unire su un unico distretto tutto il Valdarno, Fiorentina e Lettino porterà poi a delle conseguenze che vanno oltre la sanità. Non è chiaro ancora come verranno confinate i vari distretti sanitari quindi ancora c'è spazio per discutere la cosa che comunque ci stupisce è che ieri in gran segreto purtroppo Saccardi, Desiderio e tutti i sindaci sono riuniti vanificando quello che era stato la declarazione di intenti del 25 marzo 2015. In pratica il territorio era già pronto, 18 sindaci, 184 mila cittadini per avere un unico polo sanitario tra la Gruccia e il Serristori e sembra che questo accordo venga vanificato da una semplice riunione sui taglieri fra la Regione e i sindaci.